ecco qui ci troviamo a catania nella via adiacente al porto la via calipto vediamo quello che c'è oggi giornata di navi da crociera arrivata la nave la crociera tedeschi olandesi questo è quello che si trovano ecco il marciapiede aspetta che inquadriamo il marciapiede questo è il marciapiede dove dovrebbero passare le persone mentre i turisti si vedono costretti ad attraversare in mezzo alla strada è uno schifo è uno schifo questo praticamente è quello che il sindaco bianco di catania non si accorge di avere il frattempo mette i vasi impiorati in tutte le altre strade e ora ce ne andiamo a vedere cosa c'è a qualche centinaia di metri da qua perfetto ecco questa è una stradina ecco i marciapiedi dove i turisti per andare al centro storico di catania sono costretti a passare qui adesso ci giriamo e qui siamo al porto al ridosso del porto facciamo veloce veloce qui vediamo dei turisti che rientrano questi sicuramente fanno parte della nave crociera le persone si schifano a catania e non ci stanno e vanno via hanno ragione o non hanno ragione non lo sappiamo e qui siamo già all'ingresso del porto dove oggi c'è una bellissima nave da crociera ecco la vediamo la nave da crociera che trasporta circa 2500 passeggeri facciamo così entriamo dall'ingresso vetonale siamo il vigilantes in questo caso dice che commettiamo un'infrazione ecco perfetto ecco c'è la nave da crociera con tutto quello che vediamo questo e catania ecco